In arrivo una multa da 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione. Che cosa sta succedendo? Sono in arrivo delle multe per commercianti, artigiani e professionisti che dal 30 di giugno non daranno la possibilità ai propri clienti di pagare anche con le carte di credito o il Bancomat tramite il POS. Il 30 di giugno infatti scattano le nuove regole dell'ultimo decreto PNRR che prevede non solo l'obbligo di accettare pagamenti elettronici ma anche l'applicazione di sanzioni in caso di mancato utilizzo del POS. Chi rifiuterà di accettare il pagamento tramite Bancomat riceverà una sanzione di 30 euro aumentata del 4%. Quindi per esempio per uno scontrino da 100 euro la sanzione sarà di 30 euro più il 4% di 100 euro per un totale di 34 euro. L'obbligo riguarda anche notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e dentisti. Per altri aggiornamenti sempre sul mio canale di YouTube.